Erano iniziati il 13 luglio del 2020 e si sono di recente conclusi portando in serata per la prima volta l'illuminazione pubblica nell'area C Santa Cecilia a Padule di Gubbio. Sono i lavori di urbanizzazione per la realizzazione dell'asfalto e della pubblica illuminazione che hanno riguardato Via della Diga, Via del Catinaccio, Via Santa Cecilia e Via Orteles a Padule. Dopo un'attesa trentennale, finalmente le opere che hanno previsto da parte del Comune 100.000 euro di investimento hanno visto, è proprio il caso di dirlo, finalmente la luce. Esse infatti per oltre 30 anni erano state oggetto di un'intricata vicenda urbanistica che aveva dato come esito una lottizzazione abitata senza opere di urbanizzazione, condizione che aveva portato non pochi disagi ai residenti della zona. La complessità della situazione è stata affrontata in parte dall'amministrazione attraverso la risoluzione delle questioni tecniche, in parte con un forte impegno politico in termini di risorse investite, nessuna cerimonia inaugurale a causa delle normative anticontagio, soddisfazione di quanti da trent'anni e più aspettavano questo momento.